Musica Sochi non è certo un circuito vecchio, ci abbiamo corso solo due volte finora e questa sarà la terza volta. È un tracciato entusiasmante, con molte curve a 90 gradi. È anche scorrevole, non ci sono forti frenate. Non è sempre facilissimo fare sorpassi, ma nel complesso offre una buona aderenza ed è divertente guidarci. Il circuito si trova nel Parco Olimpico, dove si sono tenuti i giochi invernali anni fa, che è davvero emozionante. È un qualcosa di unico. Gli anni passati siamo stati ben accolti dalla gente. Sono molti i russi ed essere entusiasti del fatto che la Formula 1 sia arrivata nel loro paese. È decisamente un bel gran premio. Un aspetto difficile è dato dal consumo di carburante in Russia. Negli ultimi due anni abbiamo visto che le gomme hanno una buona durata. Nelle qualifiche si spingerà al massimo, cercando poi di portare questo vantaggio in gara per raggiungere un buon risultato. Nelle qualifiche si spingerà al massimo, cercando poi di portare questo vantaggio in gara per raggiungere un buon risultato. Nelle qualifiche si spingerà al massimo, cercando poi di portare questo vantaggio in gara per raggiungere un buon risultato. Grazie.